Possiamo dire che ero ufficialmente ultimo giorno di scuola per oramai l'ex assessore Federico Taralli nel comune Giulianova. Una decisione presa un po' da tempo, però come ha dichiarato giustamente lei durante la conferenza stampa c'è tanto ma tanto rammarico. Sì, ovviamente è una decisione che in ogni caso mi rattrista, ma impegni di lavoro improcrastinabili hanno fatto sì che dovessi prendere questa strada. Capisco che in un momento in cui siamo abituati a vedere personaggi essere attaccati alle poltrone per anni e anni risulta difficile capire che si lascia un incarico perché non c'è più la possibilità di dare un apporto in termini di impegno, anche quotidiano, orario quotidiano, che io ritengo sufficiente. Quindi mi sembra giusto fare un passo di lato da questo punto di vista. Non smetterò sicuramente di dare il mio apporto a questa giunta e a questo sindaco, a questa amministrazione. Rimane assolutamente invariato quello che è il mio apporto per questa maggioranza. Rimarrà però nell'ambito politico qui a Giulianova facendo il coordinatore comunale per la lista Averso. Sì, mi hanno offerto di ricoprire questo ruolo. Sono contento di poter continuare così con questa esperienza. Adaro sicuramente mi permetterà di rimanere legato a quelli che sono gli ambiti amministrativi della città e qualora il sindaco lo ritenesse opportuno continuare a dare anche qualche suggerimento.